Salve ragazzi, bentornati su... Quei due sul server 2 Oggi siamo su un gioco che ha il 2 nel nome, cioè... Shank, Shank 2 Oh, un gioco di un'ignoranza infinita E' tutto molto duro E oggi stiamo giocando con due gamepad addirittura Sì, due gamepad Il nostro Logitech e il gamepad della Ouya Che ovviamente come tutte le cose che fanno parte di Ouya Si può connettere a qualsiasi altra cosa Sì, anche se è un po' più difficoltoso Magari poi se vi piace l'idea facciamo pure un mini tutorial Su come si collega questo joystick della Ouya Fateci sapere nei commenti L'unico tutorial che non possiamo fare E' come superire alla mancanza dei tasti Start e Select Che servono in molti giochi per entrare e uscire dai menu Quindi ve la prendete in culo Però su questo gioco si va lisci con il joypad d' Ouya Allora, survival mode Local match Scegliamo una mappa? Beh, prendi la prima mappa Poi se gli piace li facciamo pure le altre Ok, ce lo fanno sapere loro Allora, oh, abbiamo tanti personaggi Allora, io joinerò come Ma ci sono solo donne e shank Io voglio la donna, io voglio la biondona Allora, mi prendo l'amore io Dai, facciamo tutto il femminile Devi premere Select No, non voglio Dai, dai, va là Come seleziono? Perché mi ha fatto selezionare? Be back Perché non back? Guts D, boh Ok Ci sono? Ok Sì, ci sono Sì Ah, join Ok No, non posso scegliere Non puoi scegliere Ti tocca a shank Va bene Ok Ecco, questi sono i problemi che escono quando Quando il gioco non è perfettamente Suitable Ok, va bene Penso che mi lascerò tutte queste bellissime armi Così E io direi di partire Partiamo Bene ragazzi, allora questo è un gioco indifferentissimo in cui orde e orde di nemici ci verranno addosso Sì, noi dobbiamo disabilitare le bombe comunque sia Io sono P2 E io sono P1 Il monzinergo è P1 La P1 perché è la femminuccia E io vorrei prendere la biondona che mattizzava in un poco Però va bene Ah, panzai, maronna Da gusto questo gioco Da veramente gusto Ragazzi, è molto divertente perché è il classico picchiaduro a scorrimento orizzontale Voglio prendere quest'uccello Hai preo? Ma si possono prendere gli uccelli Ma vedete, qua possiamo anche attivare questi interruttori per far cadere i nostri nemici Banzai Ma possiamo fare una cosa dura? Ehm, essendo il mio personaggio un PG femminile e il tuo maschile credo di sì Ma No, nel senso Possiamo fare qualcosa che è mossa figa a 2 Tipo, tu me lo lanci a me e io te lo riprendo Non lo so, questa è una cosa che chi vi fravedrà Oh, e muori porco il demonio Oh, vedete in giro Allora ragazzi, un po' di informazioni su questo Shank 2 Vabbè, questo è il 2 perché c'è anche un 1, giustamente E questo gioco lo trovate su Steam a una decina d'euro al momento, vero? Sì Allora, ci stanno carando delle cose, eh Un uccello Ok Monello Monello Vabbè, non ti è scatenato questo con un martello? Bello Oh, cazzo, ma c'è una bomba al sopra, c'è una bomba al sopra, c'è una bomba al sopra, c'è una bomba al sopra C'è una granate, queste strunzore Che cos'è? Come si usavano le granate? Ehm... Ok Sì, però se le hai finite non le puoi usare Oh, ok Vai meglio il po' Ho messo una bomba Ha ha Che figo, ho messo una granata Aspetta, la granata la metto là Oh, oh, dobbiamo disarmare, dobbiamo disarmare la bomba Cazzo Oh, aiutami, aiutami No, ci sono, faccio tutto da solo No Oh, no, no Oh, che è il cinghiale? Dobbiamo comprare, io compro il cinghiale Non so che cazzo sia No, ti trasformi in un cinghiale No, ti mette un cinghiale che rompe tutto su questa linea Ma dura per sempre Guarda il battitore Alla battuta Oh, quello sta appiando la bomba Se sapevo voleva volere un cinghiale Ci stanno i cecchini Sì, sì, no, si farà sempre più difficile la cosa Io bevo un po' di Io prendo la mazza da battitore perché Oh, ma sto merda Ok, ripetito Attenzione Buttali dentro, buttali qua Eh, vabbè, sono finiti Bravo, no, bravo, veramente bravo Revivimi, reviviscimi Così scarsa Devo prendere Devo prendere Devo prendere il piccione Il piccione Che cazzo Apri la botola Apri la botola Apri la botola Sono morto, mi devi rivivere Fottiti Aspetta Io ho rivivito te Ti ricordo che Grande Non so perché sia L'ho aperta io la botola Sì, sì Sono molto bravo Però io muoio Se tu non sai Sì Sono un po' handicappato Con il Joy Ok, come si rivivisce Ok, come si rivivisce Ah, questo Ai, dai Sono molto bravo Ho visto Ho giusto tutto da solo Ti ne esci tutto Eh, pia di questo Strono Pia di pure questo Oh, sta piantando la bomba Piccione Non più che ci sarò io Ma le munitions Sono le pipite d'oro Oh, sta piantando la bomba No, le munizioni per la pistola Non esistono Ok, si è attivato Ok, prendo le moto Devi morire BAM Gli ho messo fuoco Credo che sia un po' difficile Da seguire Sì, ma infatti C'è un modo per salire Velocemente? Salire velocemente? Usi le scalette Ho messo fuoco Guardi E lo ho buttato per terra No, dico Più velocemente Non lo so C'è un modo? A te si sale Velocemente? Ah! Sei una merda BAM Io ormai sono l'uomo dei piccioni Comunque è bello Picchiare i piccioni Per No, mi ha No No, mi ha Mi ha ammazzato Rivivisci Oddio Oh yeah C'è un'idea Incazzata Io sono incazzatissimo Oh 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 Occhio Io devo stare attento all'ingegnere qua che vuole piazzare la bomba Mi sta ammazzando Rivivisci mi Dai, madonna Perché ti fai Ho piazzato la bomba Sta piazzando la bomba Capito? Che devo fare prima? No, cazzo Che culo Eh, sono morto io Dai, vabbè Vai disarmare la bomba Dai No, siamo morti Che schifo Che schiaffo Vabbè, ragazzi Questo è Shank 2 Fateci sapere se ci avete capito qualcosa Perché è veramente un bordello nero Mi hai vinto di 150 No, ho vinto io Fottimi Hai vinto tu Hai ucciso di tutti Io ero troppo impegnato a salvare Tu sei scarso Non ce l'ho niente da fare Guarda quante volte tu rivivito Guarda Eh, vabbè L'importante è di essere famoso Per favore Vabbè, ragazzi Alla prossima Alla prossima